Pasolini ha avuto molti processi, con l'occhio di oggi, lei pensa che Pasolini era un perseguitato? Lui andava cercandosi dei guai per la verità, non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola, allora è chiaro che sia stato a mio avviso un po' forzato sia il dargli addosso giudizialmente, in fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.